All'esterno erbace e rifiuti, all'interno è ancora peggio, escrementi, pane ammuffito, vetri rotti, bottiglie di birra, persino una mascherina, segno che le incursioni notturne all'interno della chiesetta della Madonna delle Grazie di Francavilla Fontana, a pochi metri dall'ospedale Dario Camberlingo, continuano, non si fermano, come non si ferma il degrado e l'abbandono a carico di un monumento ignorato negli anni dalla politica e dalle amministrazioni. Lo scorso anno il governo cittadino guidato dal sindaco Antonello Denuzzo optò, a mo' di protezione, per l'installazione di una copertura incompensato, poi caduta giù dopo qualche raffica di vento. Oggi, senza alcun tipo di intervento, nonostante la segnalazione di Canale 85 ad inizio anno, la chiesetta sconsacrata è di nuovo preda di vandali, di chi di notte, anche in lockdown, al suo interno ha trovato rifugio. La pianta ottagonale del monumento ne fa un unicum in tutto il Salento, eppure la chiesetta è lontana da progetti di rilancio. Tempo fa l'assessore Sergio Tatarano avanzò l'ipotesi di farne una sala per i funerari civili, un'idea, almeno quella, che non piacque però all'interno della stessa maggioranza. La chiesetta oggi resta lì, aperta al pubblico, suo malgrado, a pochi metri dall'ospedale, più volte celebrato, la chiesetta resta lì, icona ignorata di degrado e di abbandono. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.